Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e ormai il Natale si avvicina e in tanti stanno cercando il regalo di Natale perfetto Infatti oggi mi sacrifico e apro i miei regali di Natale anche se non è ancora Natale Così da farvi vedere il regalo di Natale al quale non si può dire di no E che cosa può essere? Beh è un massaggiatore Un massaggiatore no, anzi due massaggiatori per il collo Però sono due massaggiatori di tipo differente perché questo massaggiatore che è l'iNeck 2 è un massaggiatore shatsu professionale Invece quest'altro si chiama iNeck Air e sono molto entusiasta, non vedo l'ora di aprirlo perché dovrebbe essere molto molto utile Ma prima di aprirlo, farvi vedere cosa c'è dentro, vediamo l'ultima cosa Che non è solamente un massaggiatore ma fa anche lo scrub facciale Che è un regalo economico per lei che sicuramente non può non piacere Apriamo per primo l'iNeck 2 che è un massaggiatore shatsu professionale Dove troviamo all'interno il massaggiatore Wow Il manuale di istruzioni in inglese e in tedesco, non c'è in lingua italiana purtroppo Ma comunque si capisce come si utilizza, non è difficile Un cavo USB, micro USB da collegare al massaggiatore per ricaricare la batteria interna Tramite il caricabatterie USB in dotazione E per ultimo due cinghie che una volta agganciate al massaggiatore da entrambe le parti Servono per reggere il massaggiatore in questa posizione Una volta visto e tenuto in mano questo massaggiatore già ci si sente rilassati Perché è tutto di velluto, molto di qualità Davvero anche le cinghie o le cinture sono fatte molto bene Bene, come funziona questo massaggiatore? Basta schiacciare il bottone di qua e inizia a funzionare Per quanto riguarda la velocità e al massimo così Quando lo schiacciate contro qualcosa rallenta Più lo schiacciate più lo fa lentamente Come potete notare qua ci sono delle luci a infrarossi Per scaldare il collo o la cervicale mentre sta facendo il massaggio Tra l'altro ho trovato molto utile questo massaggiatore Non solamente per il collo ma specialmente per la spalla Più per la spalla che per il collo Continuando a schiacciare il bottone di accensione e spegnimento Possiamo passare da 5 a 10 a 15 minuti di massaggio Invece schiacciando questo bottone ripetutamente Possiamo passare dalla modalità 1 alla modalità 4 Dove queste parti che massaggiano il collo o la spalla Girano tutte e due nello stesso verso O girano una al contrario dell'altra O tutte e due anche nello stesso verso ma al contrario E siccome ognuno di noi ha una misura del collo e della spalla differente Allora abbiamo qui una levetta che possiamo girare Per allargare o diminuire la larghezza delle parti mobili del massaggiatore Questo non serve solamente a muoverli e avere la misura corretta Ma serve anche eventualmente a... Oh cacchio così è molto bello Ah quando uno è al contrario Ecco questo massaggiatore è stato pensato per un massaggio terapeutico Ma comunque allo stesso tempo rilassa veramente tanto Specialmente se lo muovete piano piano tramite questi cinturini in silicone Questo bottone in più anche decide se spegnere Accendere il riscaldamento sia a infrarossi Che come potete notare qua c'è in mezzo Ma anche il riscaldamento delle testine Che si scaldano eventualmente anche loro Apriamo subito l'iNek Air Che sono molto entusiasta di vedere come funziona Tra l'altro qua abbiamo anche una custodia molto utile All'interno della custodia troviamo il cuscino ad aria massaggiatore Il manuale di istruzioni in lingua inglese Un cavo USB-USB-C per caricare la batteria interna al cuscino massaggiatore E due cinturini che servono a muovere il massaggiatore Esattamente come il massaggiatore Shatsu che abbiamo visto prima Si agganciano qui ma a differenza del massaggiatore Shatsu iNek 2 Questo fa anche da cuscino gonfiabile Come si gonfia? Beh è automatico Tutto automatico basta schiacciare questo bottone Tenerlo schiacciato e parte Inizia a gonfiarsi da solo Perché fa anche da cuscino da viaggio Che sia in aereo o anche in macchina Così da non doversi appoggiare sul finestrino Continuare a sbattere E una volta che si è gonfiato completamente Inizia a fare il massaggio Si questo è molto meglio Wow ma questo è fantastico Se non vogliamo il massaggio ma vogliamo solamente utilizzarlo come cuscino ad aria Dobbiamo premere e tenere premuto il pulsante di accensione e spegnimento Così da spegnersi ma comunque l'aria rimane dentro e possiamo utilizzarlo come cuscino per dormire Qui a lato abbiamo una valvola per sfogare l'aria quando abbiamo finito per rimetterlo nella sua custodia Tra l'altro qui abbiamo la possibilità di agganciarlo ovvero chiuderlo abbiamo due misure per chiudere il gancio e mantenerlo agganciato al collo così non cade mentre stiamo dormendo o anche per farsi il massaggio mentre stiamo andando in giro in aeroporto Anche qui accanto al bottone di accensione e spegnimento abbiamo il bottone delle modalità e ci sono solamente due modalità che cambia il verso di rotazione del massaggiatore Ok siamo arrivati al prodotto che tutti i maschietti stanno aspettando con pazienza ed è il Breo Eye Scrub Massaggiatore e Scrub per il viso All'interno della scatola troviamo il massaggiatore Scrub, il manuale di istruzioni e anche un cavetto USB micro USB per ricaricare la batteria interna tramite il connettore micro USB che è ricoperto con questa linguetta protettiva in silicone perché questo massaggiatore è impermeabile Quindi possiamo lavarlo, non possiamo immergerlo ovviamente perché potrebbe entrare dell'acqua all'interno di qua però comunque è lavabile Qui ha un singolo bottone, si clicca una volta per accenderlo, inizia a vibrare alla massima velocità, se lo clicchiamo un'altra volta rallenta ovvero entra nella seconda modalità di velocità minore Come potete notare da questa parte ci sono dei villi e da quest'altra parte ci sono degli altri che sono più piccoli, questi si utilizzano per una pelle sensibile invece questi si utilizzano per una pelle normale o grassa Ok ma fondamentalmente a cosa serve e come si utilizza questo massaggiatore? E' qui che spiccano le mie doti da farmacista per spiegarvi questa cosa Ecco una volta applicato lo scrub sul viso o anche uno struccante, beh basta schiacciare questo bottone, inizia a vibrare e lo appoggiate sul viso, lo passate piano piano Così da mescolare bene lo struccante o se avete applicato lo scrub oltre a farlo funzionare meglio rispetto al dito, ecco attiva anche la circolazione cutanea Ma l'utilizzo più utile che ho trovato di questo apparecchio è far assorbire le creme e attivare la circolazione Quindi una volta applicata la crema da giorno o anche da notte si può appoggiare perché oltre a distribuire la crema massaggia la pelle e quindi fa assorbire di più la crema E come al solito vi lascio il link a questi tre regali di Natale molto interessanti nella descrizione del video assieme a un coupon sconto Nel frattempo vi saluto e io continuo il mio duro lavoro di oggi come tester per massaggiatori Alexa spegni tutto Non riesco a capire comunque è da un po' di giorni No non è che non va Io non ho cambiato niente però adesso le dico Alexa spegni tutto Niente però senti adesso Alexa spegni tutto stronza Eh vedi ma l'hai cambiato Giuro non ho cambiato niente Sì però si vede che Non lo so Non lo sapevo